Il significato della fede in Dio e la riflessione sulla morte nell'affrontare le sfide della vita. La morte, uno dei misteri più profondi dell'esistenza umana, è un argomento che ha sempre suscitato riflessioni, paure e interrogativi. Mentre affrontiamo le difficoltà della vita quotidiana, circondati da un mondo pieno di violenza e ingiustizie, L'importanza della fede in Dio emerge come un ancoraggio emotivo e spirituale che ci aiuta a dare un senso a queste realtà complesse. La morte, inevitabile per tutti gli esseri viventi, è spesso vista come un evento tragico e spaventoso. L'incertezza su cosa accade dopo la morte e l'addio a coloro che amiamo possono generare ansia e preoccupazione. Tuttavia, è fondamentale ricordare che la morte è anche un elemento naturale e ciclico della vita. Ci ricorda dell'effimerità dell'esistenza e ci invita a riflettere sullo scopo del nostro percorso terreno. In mezzo a un mondo segnato da violenza e ingiustizie, la necessità di trovare un significato più ampio diventa ancora più evidente. La fede in Dio, indipendentemente dalla religione o dalla credenza specifica, spesso fornisce un senso di scopo e speranza in mezzo al caos. Credere in un potere superiore che è giusto e compassionevole ci ricorda che c'è un equilibrio più grande che trascende le iniquità presenti nella società. La fede in Dio offre conforto di fronte alle difficoltà della vita quotidiana, fornendo un rifugio emotivo quando ci troviamo di fronte a sfide insormontabili. Quando siamo vittime di ingiustizie o assistiamo alla crudeltà umana, la convinzione in un Dio benevolo può aiutarci a mantenere la speranza che alla fine prevarà la giustizia. Ciò non solo ci aiuta a affrontare le avversità, ma ci spinge anche ad agire in modo giusto e compassionevole, cercando di essere agenti di cambiamento positivo in un mondo problematico. Inoltre, la fede in Dio svolge anche un ruolo cruciale nello sviluppo della resilienza emotiva. Affrontare perdite, traumi e sfide richiede una capacità di adattamento psicologico ed emotivo. Credere in un piano divino o in uno scopo più grande può aiutare nell'accettazione e nel processo di guarigione. La fede ci ricorda che facciamo parte di un enigma più grande e che le nostre lotte individuali possono avere un ruolo fondamentale nella trama più ampia dell'esistenza. La spiritualità può anche fornirci un senso di comunità e appartenenza. Trovare una comunità di persone che condividono valori spirituali simili può essere confortante e rafforzante. Queste connessioni possono offrire sostegno emotivo, incoraggiamento e una rete di solidarietà nei momenti difficili. Tuttavia, è importante riconoscere che il rapporto tra la morte, la fede in Dio e le difficoltà della vita non è universalmente compreso allo stesso modo da tutti. Molte persone trovano significato e speranza in sistemi di credenze diversi, o addirittura nell'assenza di credenze religiose. Il rispetto per la diversità di prospettive è essenziale per una società armoniosa e inclusiva. In conclusione, la morte, le difficoltà della vita quotidiana e la presenza di violenza e ingiustizie nel mondo sono sfide che ci confrontano con la nostra stessa umanità. La fede in Dio, per coloro che la possiedono, offre una lente attraverso la quale queste sfide possono essere comprese e affrontate. Ci ricorda dell'importanza dell'amore, della compassione e della giustizia in un mondo spesso tumultuato. Tuttavia, indipendentemente dalle credenze individuali, la ricerca di significato e speranza rimane un elemento essenziale dell'esperienza umana. La tua partecipazione è essenziale per aiutarci a continuare a produrre e diffondere queste incredibili storie. Se il video ti è piaciuto, ti saremmo immensamente grati se potessi fare clic sul pulsante grazie mille e contribuire al canale, lasciando il tuo feedback nei commenti. Questo ci incoraggia e ci motiva a continuare a condividere con voi queste affascinanti storie.